Allora, siamo appena dopo Montecatini, ora avremo da fare uno scollinamento, quindi dovremo salire, avremo una bella salita, inizia ora, dove vige anche il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti, siamo all'altezza dell'area di servizio Serravalle, ora siamo vuoti, quindi riusciremo a salire su tranquillamente, poi avremo una discesa altrettanto ripida, scenderemo giù con tutto il freno motore azionato, praticamente, quando siamo agli svincoli o che ci sono corsie intersezioni, quindi corsie di ingresso, eccetera, così, sempre, sempre, sempre buttare un occhio agli specchietti di destra per vedere se sta arrivando qualcuno o no, ed eventualmente cercare di capire che cosa fa, se ci dà la precedenza, se non ci darà la precedenza, eccetera. Ora qui c'è un po' di nebbia, quindi accendiamo gli antinebbia. ok, c'è una bella curvona, ok, noi vediamo c'è una ragazza, insomma c'è qualcuno con la macchina, qua, eccolo qui, ora passata questa galleria, ci sarà la discesa, è una discesa molto ripida, quindi abbassiamo il cruise control a 80, in modo tale che lui automaticamente rallenta il camion fino a un massimo di 84-85, anche meno, ecco qua, aziona automaticamente il freno motore e se serve scala una marcia, ma in questo caso non serve. quando ci sono le discese bisogna sempre stare molto attenti, eh, perché bisogna sempre anticipare, diciamo, la rallentata, quindi non arrivare che siamo già in discesa e tentare di rallentare il mezzo, ma rallentarlo prima di iniziare la discesa, perché altrimenti se proviamo a rallentare mentre già siamo in discesa, potremmo non riuscire a rallentare il mezzo e arrivare anche a velocità molto superiori ai 90, perché comunque la discesa è ripida e il camion di velocità ne prende tanto. qui ora c'è un altro po' di salitina e poi si scolvina un'altra volta, abbiamo un'altra piccola discesina, qui basta abbassare a 82, ok, in modo tale che lui sta sugli 86 circa, ecco fatto e possiamo rimettere gli 85. Questo chiaramente si può fare anche manualmente abbassando il freno motore ed eventualmente andando a scalare marcia, purtroppo col cambio automatico questo è, se avessimo un cambio manuale, quando eravamo all'apice della salita praticamente, avremmo scalato anche una marcia, dipende anche se uno è carico o è scarico, e saremmo scesi invece che in ottava piena, magari in settima piena, in modo tale che i giri del motore aumentavano e andavamo a sfruttare l'effetto frenante del motore, poi chiaramente utilizzando anche il freno motore classico, quello meccanico diciamo, a levetta o addirittura il retarder, proprio non ci sarebbe stato problemi, anzi addirittura se avessimo avuto il retarder, probabilmente essendo vuoti, potevamo scendere anche con l'ottava piena, azionavamo tanto il retarder e scendevamo giù tranquillamente, ma io per precauzione una mezza marcia la scalavo lo stesso. Allora, ragazzi, siamo arrivati a Prato Est, noi usciamo qua, perché rimane più corta la strada, tra un chilometro e mezzo abbiamo l'uscita, quindi ci dobbiamo preparare a rallentare, ancora chiaramente presto, ok, ora siamo circa un chilometro, ecco qua il cartello, 900 metri, quindi possiamo intanto levare il cruise control, perché siamo in pianura, quindi il camion non rallenterà tantissimo, ecco qui, lui va in modalità eco, mettiamo la freccia, al 500 metri abbiamo l'uscita, ecco qua, siamo completamente senza gas, siamo intorno ai 70 all'ora, velocità giusta per escire dall'autostrada, buttiamo giù due tac di freno motore, diamo l'input per abbassare la marcia, ecco qua, e leviamo il freno motore. Qui ora saliremo su un ponte, seguiamo le indicazioni per interporto, capalle, ok, qui a sinistra abbiamo l'interporto di Prato, qui ora siamo in discesa, quindi andiamo giù senza toccare l'acceleratore, diamo una tacca di freno motore, ok, giusto perché ci sono le buche e cerchiamo di arrivarci il più piano possibile, questa strada è messa molto molto male purtroppo, ok, qui abbiamo un collega un po' indeciso, ci spostiamo sulla destra, ecco qua, così se qualcuno vuol passare può farlo, noi in fondo ci risposteremo a sinistra, cominciamo a mettere la freccia, così loro si spicciano, perfetto, mettiamo giù due tac di freno motore per rallentare e far passare queste macchine, ok, e ci spostiamo, lo spostamento da una corsia all'altra deve essere sempre molto graduale, non dovete farlo spigoloso, deve essere proprio un passaggio graduale, qui ora abbiamo un pezzo veramente disastrato, ecco qui, questa non è la prima buca, infatti è cascato qualcosina, qui, ah sì, è cascato il telefono, lo mettiamo a posto, qui abbiamo proprio una strada messa malissimo, e non è nemmeno il punto peggiore, il punto peggiore è dopo, e ci passiamo proprio a 40 all'ora, poi sfruttiamo la discesa, qui diamo un po' di gas, una bella accelerata, e leviamo il gas, per cercare di fare la salita senza toccare l'acceleratore, anche perché arriviamo qui, e qui c'è la buca più brutta di tutti, ecco qui, qui dobbiamo frenare obbligatoriamente, ecco qua, e fine, fatto, lì è veramente, veramente brutta, bisogna passarci veramente a 30 all'ora, anche 25, perché è veramente orribile, come dislivelli e come cose, qui buttiamo un occhio se non arriva nessuno allo svincolo, ok, e più che altro le intersezioni dei ponti, qui abbiamo altre buche, ok, e considerate che qui c'è il limite di 70 all'ora, cioè, eravamo matti, assurdo, qui andare a 70 all'ora col camion è impossibile, ma anche con la macchina, siamo in discesa, buttiamo giù due portanti di freno motore, quindi possiamo levare, perché lì ci sono altre buche, infatti vedete come il camion un po', si muove, un po' balla, ora abbiamo l'ultima salita, e poi avremo una rotonda, quindi acceleriamo un po' qui, ci portiamo fino ai 70 all'ora, e leviamo gas, in modo tale che facciamo la salita, freno motore, scadiamo una marcia, e poi ci dobbiamo praticamente fermare, quindi andiamo a intervenire sui freni, ok, possiamo levare il freno motore, ok, possiamo andare, freccia a sinistra, ora prendiamo una strada nuova, che hanno aperto da pochissimo, perché di qua, preferisco farla di qua, perché di là, dovremo passare sotto a quell'albergo là, ma la strada è tutta buca, è tutta bucata, diciamo, è tutta buche, e poi c'è un semaforo dopo un ponte, che è veramente lungo, quindi io preferisco passare di qua, è un po' più lungo, diciamo, un po' più articolato come giro, ma ci metto meno, qui strada nuova, quindi strada liscia, possiamo fare tranquillamente i nostri 70 all'ora, come di limite, come dal limite di velocità, ok, qui stiamo passando sopra l'autostrada, questa qui sotto è la 1, siamo all'altezza di Firenze Nord, buttiamo giù un attimino una tacca di freno motore, ok, la leviamo, ora andiamo in discesa, la guida deve essere sempre molto rilassata, soprattutto in questi casi, quando c'è pochissimo traffico, diciamo che quando riusciamo a guidare tranquilli, è sempre una buona cosa, buttiamo giù una tacca di freno motore, ci stiamo avvicinando alla rotonda, cominciamo a mettere la freccia, freccia a sinistra, ok, tra 150 metri abbiamo la rotonda, possiamo mantenere questa tacca qui di freno motore, non importa darne un'altra, stiamo a sinistra, come da freccia, ok, possiamo andare, nuovo freccia a sinistra, e freccia a destra per uscire, stando attenti a chi viene da quest'altra parte, dobbiamo appurarci che loro si fermino e ci diano la precedenza, perché sempre prevenire, se gli altri sbagliano, non vuol dire che noi dobbiamo fare giusto, e causare un incidente, se gli altri sbagliano, noi rallentiamo, ed evitiamo qualsiasi tipo di contatto, qualsiasi tipo di impatto, perché non si sa mai le conseguenze che un incidente può avere, quindi meglio sempre evitare, allora, qui abbiamo buttato giù due tacche di freno motore, freccia a sinistra, dobbiamo praticamente tornare indietro, sempre larghi col trattore, perché dobbiamo guardare dagli specchietti, che le ruote del semi rimorchio, non vadano contro il marciapiede, ok, perfetto, diciamo che per fare le curve, bisogna sempre seguire la riga bianca esterna, seguendo quella va benissimo, qui abbiamo da girare a destra, mettiamo giù due tacche di freno motore, rallentiamo, rallentiamo, questa curva è abbastanza stretta, ci teniamo in mezzo alla strada, e seguiamo la linea bianca esterna, ok, perfetto, a posto, e ora me ne vado in ditta, spero che questo video sulla guida anticipata, vi sia piaciuto, se fosse così lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ricordatevi di seguirmi anche su Instagram, su Facebook, dove pubblico anche varie storie, vari aggiornamenti eccetera, insomma potete seguirmi anche là, un saluto da Alelo Statale, e alla prossima, buona strada a tutti, ciao!